Buongiorno signori, ecco a voi l'intervista del migliore in campo Luca Lapia degli FC Vittoria che avete appena vinto contro i Sambaionati. Complimenti Luca, com'è andata la partita? La partita troppo nervosa, però siamo andati in vantaggio da subito, abbiamo messi sotto, solo che dopo il nervosismo ha colpito Di Maso e Messi. Sì, abbiamo, ci saranno seri provvedimenti disciplinari questi ragazzi. Parliamo un po' di te, com'è stata la partita, ci ha avuto benissimo Messi. Quanti gol hai fatto? Due gol. Mio cugino ha la seduta, però tutto sommato tutto a posto. Speriamo solo di recuperare presto la Stura. Di Maso non più ormai, è spalificato al torneo, è definitivo. Quindi ci devi dare tempo per tornare. Complimenti Luca, vuoi fare qualche ringraziamento? No, tutta la squadra che abbiamo giocato bene tutti, quindi non solo io. Dal portiere, difensore fino agli attaccanti. Complimenti. Forza Napoli. Bravo Luca, grazie.